Nel visitare il parco del castello di Pralormo, in provincia di Torino, scopriamo Messer Tulipano, manifestazione che si ripresenta ogni anno. Incantati da così tanti colori della natura, abbiamo deciso di inserire questa manifestazione nel nostro canale Bellezza d'Italia. Al visitare il parco del castello di Pralormo, in provincia di Torino, scopriamo Messer Tulipano, un evento che si presenta ogni anno. Grazie a tutti i colori della natura, abbiamo deciso di inserire questo evento nel nostro canale Bellezza d'Italia. Grazie a tutti i colori della natura. Grazie a tutti i colori della natura. Grazie a tutti i colori della natura. Se volete abbracciare la primavera, viverla, sentire i suoi profumi, non potete non visitare Messer Tulipano. Se volete abbracciare la primavera, vivere la primavera e sentire i suoi profumi, non potete lasciare di visitare Messer Tulipano. Grazie a tutti i colori della natura. 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 Grazie a tutti.